A tutti, breve aggiornamento della mia camera, perché stamattina ho tirato tutto su, cioè mi mancano forse due sacchi da tirare su, vabbè, perché ho diversa roba e io mi cambio spesso, diciamo, poi fa freddo, sono talmente freddolosa che io, cioè due anni fa mi sono comprata diversi maglioni con i caldi, poi c'ho diversi piumini, perché molte volte l'ho trovata a capperzi, diciamo, buoni, ma quindi l'ho presi. Allora, devo fare quest'altro video di attualità, però in questi giorni non sono stata tanto 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 bene, diciamo. Allora, scuso innanzitutto per la mia faccia, perché non sono truccata, però io in realtà sono in casa, a volte non mi trucco di anni, invece me l'ho truccata, perché ho detto, ero lì, devo fare il video, poi me l'ho messa lì a riguardare, diciamo, altre appunto, ho detto, aspetto un attimo, però io stamani mi sono svegliata con i buoni propositi, anche se in questi giorni avevo dei malestri leggeri, tipo mal di testa, perché mi sono andata l'amministrazione tre giorni prima, non arrivare domani, cioè che è giovedì 23, in realtà poi mi si sono anticipati di lunedì 20, ho detto, ah bene, ecco perché poi avevo questa gran voglia di mangiare la cioccolata, di farmi questo dolce a cioccolato, le mie idee avevo questa, cioè fame, che non stivo riuscivo a frenare, e quindi niente, ho capito il perché, perché poi di pomeriggio mi sono arrivate, e tra l'altro, cioè oggi, mi sono svegliata appunto con i buoni propositi, di fare tante cose, ma non è che stavo male, no, in realtà, però ero, cioè, mi sentivo un po' così, e ho detto, ma mi riprenderò, faccio colazione, no, e poi mi riprendo, ma in realtà no, perché poi ho preso un forte mal di testa, che sono stato a letto fino adesso, che saranno le 5 qualcosa, con la nausea, molto strano, sono fatto un tema, metà mattina, e niente, poi abbiamo mangiato qualcosa, quello si è mangiato un po' di pasta, quello sì, ogni tanto dalla pasta la mangio, cioè, allora, è vero che io mangio le verdure e tutto, quanto, no, sono tutta fissata con le fibre, per il vitamina, eccetera, però da ogni tanto la pasta ci va, poi, ve lo dico comunque, nei prossimi giorni, quando siamo nella stagione invernale, l'alimentazione un po' cambia, non è che si può mangiare solo magari inserate e frutta, ci sono altri cibi, tipo le passate di verdura, le passate varie, eccetera, si può mangiare qualcosa di più sostanzioso, io, già se avete visto, no, vi faccio vedere, ho qualcosa ancora da sistemare, perché effettivamente, cioè, è così, cioè, ho, diciamo, questi sono dei pantaloni, questi sono dei pantaloni, li ho liberato, perché c'erano, vi ricordate, c'erano delle scatoline, una scatola, poi c'era quella lì, da quella scarpe, che le mette di là, quella busta, vabbè, tutte le mie cose, tutta l'oggettistica, e c'erano dei sacchi dei miei acquisti, che l'ho levati, l'ho levati, perché non mi servivano, perché adesso questo termosifone è vero e spento, lo devo riaccendere, perché porca miseria, fa freddo oggi, devo metterlo a cinque dopo, guardo, e deve uscire l'aria, cioè, cioè, deve uscire l'aria, perché deve praticamente riempirsi della casa, fino a due giorni fa, praticamente non era neanche, cioè, freddo, 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 fero freddo, sia non mai arrivato da oggi, cioè, posso assicurare, e niente, questo rimane così, a questa era la bottiglia, non so dove era andata a finire in un sacchetto, non so perché, perché le mie acque devono essere sempre presenti nelle mie stanze, perché io bevo, e questi, vabbè, sono delle collanine, carine, carine, che ho preso ieri, sì, cuore, belline, una dorata, carina, versione Chiara Ferragni, e una su, vedete, sull'argento, ma perché non si è nascosto? Comunque, sono quelle, sono le medesime, sono un po' nascoste, aspettate, poi, insieme le nostre quelle, perché, ah no, cioè, si vede, vedete, me lo metto sull'orecchini color argento, adesso, io, stasera, trovo a riguardare, diciamo, questa parte qua, perché c'è, diciamo, qualcosa da sistemare, anche lì, perché è tutto da risistemare, ovviamente, non l'ho fatto prima, perché non l'ho fatto prima, perché ero di là, che voglio un attimo di riprendere, io devo dire che mi abito di più dal passaggio freddo-caldo, che dal passaggio caldo-freddo, cioè, non so se avete capito, perché sono più per l'estate, tutto qua. Detto questo, io termino quel video, perché è stato un po' breve, non è stato un video lungo, 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 era per aggiornarvi sulla mia situazione, perché ancora questo video non è uscito, ma io volevo, voglio uscire, voglio, voglio registrarlo domani, perché poi devo andare a prendere ancora il cavo, cioè, devo andare ad ordinare, perché mi arriva dopo due giorni, ma in realtà, io, prima questo freddo, non so se me la sento uscire, ora poi è buio, vabbè. Poi, il fatto che non stavo tanto bene, sicché niente, rimanderò, vuol dire che farò questo video sempre col cellulare, ma io c'ho portato una telecamera, guarda una telecamera, quanti cavilli ha una telecamera, cioè, quanti, quanto devo risolvere della batteria, si funziona, poi si controlla e la batteria funzionava, a quanto pare, più adatta il cavo, ma il cavo non si trova, il cavo non si trova, perché è un cavo particolare, proprio adatto, specifico, per la telecamera, quindi anche se vado alle cose dell'elettronica, non li posso trovare, l'unica via è andarlo a ordinare a chi li può ordinare, quindi, cioè, andiamo dove devo andare, tanto farò una passeggiata, non muoversi, non fa mai male a nessuno, voglio dire, no, fare i due passi, insomma, fa sempre bene, quindi, aspettiamo la telecamera, domani, spero di registrare, sicuramente domani sarà molto meglio rispetto ad oggi, e niente, adesso, anche se in versione strucco, vi chiedo scuta, se faccio un po' da paura, capisco che Halloween, è già passato da quasi un mese, da tre settimane, però io, raga, cioè, sono spontanea, cioè, non sempre, mi devo toccarmi, in realtà, per fare un video così breve, dai, accettatemi come sono oggi, domani sarò più luminosa, dai, detto questo, ci vediamo presto, ciao!